Un dialogo concreto con i grandi maestri dell'Accademia e con i grandi professionisti Cosmopolites è un'occasione preziosa per noi docenti ed è un'opportunità unica per i nostri studenti È un momento in cui c'è bisogno di riscoprire anche questa dimensione di essere inseriti in un contesto europeo Ed è un principio che c'è nella Costituzione Bisogna comprendere cosa si fa in Europa, bisogna occorre una coscienza civile, un'educazione civica europea